Quella che si è verificata ieri sera a Castellabate sembrava una scena da film. Una coppia, dopo aver consumato una cena in un ristorante, si è alzata con oscialanze ed è andata via senza pagare il conto. L'episodio è avvenuto in una tranquilla serata estiva a Santa Maria di Castellabate ed ha coinvolto una coppia che, dopo aver cenato in una rinomata braceria sul lungomare, ha lasciato il ristorante senza saldare. I proprietari dell'attività hanno immediatamente denunciato l'accaduto sui social media, condividendo foto e video dei protagonisti della scena quasi esilarante. Secondo quanto riportato dai gestori, la coppia avrebbe consumato una cena abbondante, composta da antipasti, carne e vino, senza mostrare alcun comportamento sospetto. Tuttavia, al termine del pasto, si sono alzati con calma e sono usciti dal locale senza farsi notare, evitando così di pagare il conto. L'episodio ha suscitato grande indignazione tra i ristoratori, che hanno deciso di rendere nota la vicenda per sensibilizzare l'opinione pubblica sulla mancanza di rispetto nei confronti del lavoro altrui. La notizia si è rapidamente diffusa sui social network, dove numerosi utenti hanno espresso solidarietà ai proprietari del ristorante, condannando l'atteggiamento della coppia ed invitando chiunque avesse informazioni utili a farsi avanti. Sebbene episodi simili non siano rari nel mondo della ristorazione, sempre più gestori scelgono di utilizzare i social network per denunciare questi eventi e sensibilizzare il pubblico.